Professore, chiedo com'è dal punto di vista dei numeri, delle analisi, la situazione in Italia e lei ha anche analizzato molto la situazione dell'emergenza in Cina, facendo degli importanti paragoni con la situazione italiana, quindi che cosa ci può dire su questo? Allora, grazie Giorgio, sì, effettivamente mi ricollego anche alla domanda che giustamente pone al professor Galli, cioè riusciamo a avere dei modelli epidemiologici che predicono come si è evoluta questa epidemia? Rispondo subito che le nostre migliori stime stimano effettivamente che i primi casi, i primi contagi sono arrivati a fine gennaio, quindi sono completamente d'accordo con lei. La domanda è come abbiamo imparato questo? Io sono un fisico teorico, ho una conoscenza di base epidemiologia, ma qui la domanda fondamentale è come estrarre l'informazione da un segnale rumoroso. Tutti i dati che noi abbiamo a disposizione sono affetti da fortissime fluttuazioni, hanno delle sottostime, quindi in qualche modo dobbiamo imparare a leggere questi dati. Questa è appunto la prima cosa che avevo fatto quando avevo cercato di spiegare alle persone cosa vogliono dire i dati forniti da protezione civile e poi abbiamo studiato la situazione cinese perché, non perché sia identica l'Italia, la Cina è molto diversa dall'Italia, quindi il confronto tiene fino a un certo punto. Tuttavia, per imparare come questa epidemia evolve, dobbiamo studiare i casi in cui si è già evoluta e si è manifestata in tutta la sua forza e il caso della provincia dell'Hubei, in Cina, di Wuhan in particolare, è chiaramente emblematico. Ma l'altra cosa importante è che per capire quali siano effettivamente i risultati, gli effetti delle misure di distanziamento sociale, di lockdown, di quarantena centralizzata come hanno applicato nella regione dell'Hubei, noi dobbiamo guardare a quei dati. Ok, quindi va bene avere dei modelli e modelli epidemiologici più o meno sofisticati per il tipo di dati che abbiamo ad oggi, bastano dei modelli anche relativamente semplici, ma la cosa importante è capire poi in questi modelli come li dobbiamo modificare per tenere conto delle misure restrittive che sono state prese prima in Cina e poi in Italia. Il paragone con la Cina si applica abbastanza perché anche lì è stato fatto un lockdown, un distanziamento sociale simile a quello dell'Italia, molto più difficile il paragone con la Corea del Sud, dove invece sono state prese misure di altro tipo, forse più efficaci, ma quando i numeri erano più piccoli, quindi quel paragone purtroppo non può essere spinto troppo in avanti. Tuttavia già solo dai dati cinesi alcune cose le abbiamo imparate chiaramente, sono dei lavori scientifici che hanno cercato di stimare quale fosse il famoso reproduction number, cioè il numero medio di persone che ogni paziente infetto contagia prima di guarire o essere isolato, quindi essere messo in condizioni di non contagiare più nessun altro. E una delle cose che ci dicono che vi mostro brevemente in questo grafico è che in realtà le misure di restrizione che sono state prese verso fine gennaio hanno sì diminuito la crescita nella provincia di Wuhan, ma non l'hanno azzerata del tutto. E è stato solo verso i primi di febbraio, quando è entrata in vigore la quarantena centralizzata, che in quella regione abbiamo visto una decrescita del numero di nuovi contagi. Quindi questo vuol dire che sono cose che noi possiamo imparare da chi ha già vissuto questa epidemia, per cercare poi di utilizzarle per analizzare al meglio i dati italiani. E oggi lo riusciamo a fare, cioè oggi noi abbiamo dei modelli che riescono a riprodurre molto bene tutta la curva dei decessi in Italia e quindi permetterci anche di incominciare a fare delle stime, magari ne parleremo dopo. Però appunto il punto fondamentale è che la Cina va presa per imparare delle cose, ma il confronto non può essere spinto troppo in avanti. Poi bisogna guardare i dati italiani, insomma, quindi quello... Quindi nel confronto con la Cina la decrescita, diciamo così, o il rallentamento dei dati italiani appaiono più lenti. E questo probabilmente è il fatto che in Cina sono state prese delle misure più forti. Esattamente. Allora, quello che si vede, adesso vi posso far vedere qualche grafico, è la differenza fondamentale che il lockdown cinese è stato molto effettivo. Soprattutto più che il lockdown, quindi più che il distanziamento sociale, loro a distanza di una settimana da quel distanziamento sociale, poco più di una settimana, dieci giorni, hanno capito che si stavano continuando ad avere molti casi di infezioni, soprattutto tra i familiari. E questo non permetteva una vera e propria decrescita. E quindi quello che hanno fatto, hanno adottato delle misure più restrittive che hanno chiamato di quarantena centralizzata, in cui tutte le persone che avevano anche solo un sintomo, anche solo la febbre, o anche solo la tosse, e tutte le persone che erano state in contatto con pazienti che hanno risultati positivi, sono state messe in isolamento. Questo è quello che ha fatto crollare veramente il numero di nuovi contagi. In Italia le misure sono state prese, come sappiamo, in maniera molto più graduale, sono state prese in aree sempre crescenti, a partire da zone rosse fino a tutta l'Italia, con livelli di intensità crescenti nel tempo. Quindi ovviamente non possiamo vedere esattamente lo stesso schema di crescita e decrescita cinese. Tuttavia, diciamo che in Italia in alcuni dati si sia raggiunto e anche superato il picco, lo abbiamo visto, ad esempio il numero di nuovi casi in Lombardia, il numero di nuovi decessi in Lombardia, ha chiaramente superato il picco. Tuttavia, vorrei sottolineare che l'analisi in Italia non può essere condotta a livello nazionale, è obbligatorio guardare almeno alle regioni, se non a livello di singola provincia. Perché la situazione è molto etereogenea e ogni volta andiamo a guardare i dati nazionali, questi sono completamente dominati dai dati che provengono dalla Lombardia. Quindi la cosa che suggerisco sempre è di guardare i dati per singole regioni e se noi andiamo a guardare i dati per singole regioni, vi posso mostrare ad esempio il numero di decessi in tre regioni che non sono la Lombardia, quindi regioni che noi non vedremmo se guardassimo solo i dati nazionali. Vedete come i dati dell'Emilia Romagna si comportano similmente alla Lombardia, quindi hanno chiaramente superato un picco e stanno andando giù. Ma se voi guardate altre due regioni importanti, perché sono limitrofe, sono quelle regioni che in questo momento stanno determinando il futuro dell'epidemia in Italia, quali la Liguria che è piccolina, ma la Toscana che è molto numerosa, sono più di due settimane che siamo su un altipiano, quello che chiamano alcuni il plateau, cioè non abbiamo raggiunto un picco e stiamo scendendo. Siamo in una situazione più o meno stazionale nel tempo. Questo è buono perché abbiamo interrotto la crescita esponenziale, ma non è ancora sufficientemente buono, cioè noi qui dobbiamo decrescere e ancora non abbiamo incominciato a farlo. Quindi questi li possiamo dire che sono gli effetti delle misure restrittive prese intorno all'11 marzo o anche diciamo di quelle prima. Però noi dobbiamo vedere una decrescita, quindi è importantissimo che noi continuiamo ad avere queste misure restrittive, altrimenti non ne usciamo. Ovviamente questo è uno dei numeri, ad esempio il numero dei decessi, che è un numero abbastanza sicuro, anche su questo poi possiamo discutere di quanto i dati sono puliti o meno. Ci sono altri, possiamo guardare il numero di nuovi casi, però quelli sono affetti dal numero di tamponi che vengono fatti, o possiamo guardare il numero degli ospedalizzati. Vi faccio vedere giusto il numero degli ospedalizzati, poi andiamo avanti. Poi dopo magari ci torniamo. Ci torniamo su, però per farvi capire che non sempre c'è il picco, perché spesso si parla del picco, quindi ho fatto vedere due regioni che ora sono sul plateau. E un altro esempio è ad esempio il numero di ospedalizzati. Il numero di ospedalizzati, ci sono regioni come ad esempio il Veneto, come anche la Lombardia sarebbe simile, ma il Veneto ha chiaramente mostrato negli ospedalizzati e il numero di interpintenzia l'ho moltiplicato per 10 per farlo vedere sulla stessa scala, altrimenti sarebbe troppo piccolo. Questo ha raggiunto un massimo, quindi stiamo migliorando. Questo numero non deve raggiungere il massimo, deve andare a zero. Queste sono le persone che sono ancora in ospedale, quindi questo vuol dire aver calato la pressione, risolvere vuol dire andare a zero. E anche il numero ospedalizzati. Ma se guardate altre regioni, sono molto in ritardo e quindi noi le dobbiamo osservare a lungo. Ad esempio, se io guardo il Lazio, il Lazio vedete che sta arrivando ora al picco, quindi bisogna avere pazienza, dobbiamo continuare a avere queste misure, perché non tutte le regioni hanno lo stesso momento del picco, non tutte stanno raggiungendo il picco. Quindi è una situazione molto eterogenea, quindi dobbiamo stare attenti quando si fanno delle affermazioni a livello nazionale, queste riguardano fondamentalmente la Lombardia. Quindi diciamo molta accortezza, vediamo gli effetti delle misure restrittive, ma dobbiamo ancora avere pazienza perché abbiano un effetto fino in fondo.